Félix González Torres è tra i più importanti e acclamati artisti contemporanei, morto all'età di 39 anni per i DS. La sua celebre opera, Untitled Last Light, del 1993, è posta al centro dell'allestimento. L'artista ha utilizzato, come per altre sue opere, oggetti semplici e quotidiani, in questo caso lampadine, con l'obiettivo di trasportare il visitatore nella dimensione quotidiana e privata della sua vita, segnata dal grande amore per Ross, il compagno che l'ha lasciato prematuramente sempre a causa dell'AIDS. Tra i temi indagati dall'artista ci sono l'amore, l'omofobia, la malattia, la natura fugace della vita, la perdita e la rigenerazione, affrontati con delicatezza e forza evocativa che trasforma gli oggetti più comuni in strumenti di poesia. L'opera è costituita da 24 lampadine che rappresentano le ore della giornata e un tempo ciclico ma facile.